Una forma di fare musica e cultura capovolgendo i consueti ritmi del tempo del lavoro e dell'economia. La band campana The Gentleman's Agreement ha presentato la sua ultima fatica nella sala giunta di Palazzo San Giacomo. Apocalypse Town riprende nelle sonorità e nell'abbigliamento degli artisti la scansione del lavoro in fabbrica, concedendo un'alternativa nel ritorno alla terra e al suo lavoro, duro ma libero. Per realizzare l'album si è serviti del baratto, scambiando il proprio lavoro fisico e mentale con la fornitura dei mezzi necessari al compimento dell'opera. Nelle parole della band e dell'assessore alle politiche giovanili di Napoli Alessandra Clemente, la novità dell'iniziativa. Il significato profondo è quello di alternativa. Cioè per noi il baratto con lo studio di registrazione è stato una reale alternativa a quello che può essere lo scambio semplicemente prestazione e denaro. Come del resto un'alternativa viene raccontata appunto nel disco, l'alternativa di questo operaio che fugge dal sistema fabbrica per inserirsi in un contesto diverso che è quello appunto a cui ci siamo ispirati in Salento. Pensavo rispetto a tutti questi discorsi, sai il baratto, il baratto, il baratto, fondamentalmente una moneta c'è, è quella dello spirito e che noi abbiamo semplicemente chiamato fiducia, si mette in gioco la fiducia. Quindi io mi fido di te, mi fido del tuo lavoro, mi fido di quello che tu stai facendo ed è una cosa... Ed è una cosa proprio fondamentale per questo lavoro. La storia è un posto dove c'è un'accoglienza ben diversa, realmente umana, è diverso rispetto a storia, è un luogo dove non conosci nemmeno il gestore. Quindi c'è una compartecipazione totale, anche loro hanno lavorato tantissimo per la promozione di questa serata perché sapevano che era uno di loro, che ha lavorato con loro, per uno scopo ben preciso. Quindi l'appuntista umano si ispira una grande energia quando mette in moto questo modo di comunicare e di spendere. La storia di Napoli ha aderito perché abbiamo un dovere, quello di dare luce ed energia a quelli che sono i percorsi d'avanguardia giovanile e delle arti della città di Napoli. Questo è un progetto che fa scuola perché Baratto e Cravit Commons sono le due stelle porali del progetto messo in campo da un gruppo di ragazzi straordinari che dimostrano cosa, come Napoli detta in tanti settori, a partire dalla musica, quelle che sono le linee dei percorsi più innovativi e più dinamici della città.